La cosa che ho imparato in questi 15 anni di lavoro qui a Mondadori, prima come editor e adesso come responsabile editoriale, è che i libri hanno un corpo e un'anima. Un libro ha un corpo perché ha una cosa, questo a prescindere dal fatto che sia cartaceo o digitale. È una cosa che ha un aspetto, che ha un costo di realizzazione, che ha un prezzo di vendita, ha delle esigenze produttive e di distribuzione, ha come dire un attrito. Però ha imparato che un libro ha anche un'anima ed è fondamentale per chi fa questo mestiere saperla cogliere e trattare. Selezionare un libro da pubblicare significa capire se un testo ha o meno un'anima, qualcosa che gli vibra dentro, che lo rende notevole e speciale. Curare un libro significa capire esattamente qual è quell'anima, metterla a fuoco, se no si corre il rischio di confonderla con altri e di tradirla. Lanciare un libro significa comunicare quell'anima all'esterno, con un titolo, una copertina, un piano di marketing o di comunicazione. In questi anni mondadori ho imparato quanto è importante riuscire a tenere insieme il corpo e l'anima dei libri, fino quasi a confonderli e a farsi venire il dubbio che siano due cose davvero così distinte. Uno degli aspetti più affascinanti del mestiere editoriale è che non si riesce mai a comprenderlo fino in fondo e d'altra parte è quello che succede con le persone più interessanti e con le poesie più belle.